salve a tutti ragazzi oggi video super particolare con il Mavic Air forse non tutti sanno che i droni DJI a livello professionale sono usati per il vrc cioè per fare le riprese del mondiale rally ecco qua alcune immagini quindi io ispirato da tutto questo e avendo un Mavic Air mi son detto se il Mavic Air è un fratellino piccolo dei droni professionali di DJI perché non fagli fare delle riprese rally anche a lui ovviamente essendo un fratellino piccolo anche il rally sarà piccolo quindi sarà un rally in scala 1.32 quindi adesso prepariamo il Mavic Air e iniziamo le riprese al vrc in scala 1.32 ok ragazzi il Mavic è in posizione iniziamo le riprese iniziamo il Mavic Air ok ragazzi adesso possiamo far scendere il Mavic che ha finito le riprese ragazzi come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto condividete il video e ci vediamo al prossimo ciao ragazzi ciao 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 ciao